oggi con l'apertura di questo nuovo service tech center sdram tech center italia diciamo che è il punto di arrivo il punto di arrivo di un percorso che è iniziato per l'azienda 31 anni fa e che in particolare ha avuto evoluzione negli ultimi dieci anni di storia con un costante investimento da parte dell'azienda su più fronti da quello che è stato un nuovo gestionale nel 2010 l'ingresso di sdram l'anno precedente poi negli anni successivi l'ingresso con tutti i brand della famiglia sdram la creazione nel 2011 l'ingresso con i due magazzini automatici il primo 2011 e il secondo 2014 per migliorare la parte logistica e a inizio 2019 con la creazione del nostro experience center dove organizziamo eventi come il nostro open house per esempio la seconda o terza settimana di novembre quindi con oggi diciamo che segna un altro passo in avanti con l'apertura dello sdram italia tech center in questa creazione di una strategia che non è solo in nell'ambito della vendita ma è finalizzata alla creazione di servizi sia nel pre in particolare nel post vendita e quindi ad aggiungere quel valore che a nostro avviso un distributore moderno deve necessariamente dare per fare la differenza sul mercato e per essere non solo competitivo ma essere moderno e rispondere in modo adeguato a quella che le richieste dei clienti del mercato appunto